Sindaco, un'occasione importante per la Divina, i concerti che si terranno in villa già a partire da domani? Certamente sì, è la continuazione di un'attività che è iniziata dal primo momento del mio mandato, che risale circa sei anni fa, in cui ci fu una precisa volontà dell'amministrazione entrante di incuniare la cultura tra la ceramica e il turismo, per far bene sia al turismo che alla cultura. I concerti sono stati sempre un fiore all'occhiello per quello che riguarda il momento culturale e le attività tutte che vengono svolte sul territorio. Quest'anno si è riusciti a mettere su un cartellone di tutto rispetto con un precipuo intento, quello della valorizzazione delle professionalità degli artisti e dei musicisti locali innanzitutto, e poi con l'apertura, con una delocalizzazione anche della precedente concentrazione su Villa Guariglia e quindi l'utilizzazione per i momenti di jazz nella villa comunale, per poi pensare a tutte le altre attività dell'estate che sarà animata sul territorio. Abbiamo in programma circa 60-70 manifestazioni, io ringrazio in proposito non solo tutta la Giunta che lavora lacrimente, in particolare gli uffici e l'assessore Giovanni De Simone che si dedica a anima e corpo per questo momento estivo, che non serve soltanto ad allietare ma serve ad incrementare anche le presenze sul territorio. Sono presenze che fanno bene non solo alle attività ricettive sotto l'aspetto alberghiero, ma fanno bene anche alle attività ricettive sotto l'aspetto gastronomico. Non fosse altro perché i bed and breakfast sono incrementati, gli alberghi molto spesso sono pieni, forse anche in funzione di quelle che sono le attività culturali che riusciamo a svolgere sul territorio. Ma poi il piatto forte sono i piatti e le pietanze dei nostri ristoratori che non solo allietano le serate ma anche il palato. Una ricchissima Kermes quest'anno che vede tanti protagonisti, tanti giovani, tanti ragazzi che parteciperanno a questa manifestazione, quest'anno che abbiamo voluto sdoppiare, una parte a Villa Guariglia, una parte nella Villa Comunale. La parte di Villa Guariglia sarà dedicata, come da alcuni anni, alla musica classica, invece la parte che faremo nella Villa Comunale di Vieti sul Mare per quanto riguarda la musica jazz. Questo per aprire il territorio a quelli che sono i turisti, gli avventori e tanti cittadini, anche i vietresi, che nelle serate certamente saranno presenti presso queste manifestazioni. Io devo ringraziare ovviamente la provincia di Salerno, la quale ci ha dato una grossa collaborazione, il patrocinio e gli spazi di Villa Guariglia, il CNA di Salerno, il quale partecipa e collabora con noi e poi ovviamente il protagonista principale, il Conservatorio Martucci, il quale ha offerto gli spettacoli e sarà presente con noi e sarà a fianco a noi in queste serate. Massimo Lanocita, il Conservatorio Martucci siglerà la rassegna di quest'anno dei concerti in Villa? Nel segno della continuità, visto che abbiamo fatto i concerti di Villa Guariglia con la direzione artistica di Donia Vilburger, la cui va ovviamente il mio sentito ringraziamento per gli anni passati, rinnoviamo questo impegno con il Comune di Vieti, con la partecipazione a mezzo del jazz sostanzialmente e soprattutto con i maestri De Idda, Guglielmo Guglielmi, Derrico, Scannabieco e tanti altri per concretizzare e definire e rinsaldare un rapporto che comunque con questa parte del territorio il Conservatorio Martucci ha elaborato e ha prodotto negli ultimi anni.